Tamil grande prestazione 3 a 0 e vetta solitaria della classifica per una notte sì sì abbiamo aspettato una partita durissima Verona ha dimostrato un buon una buona prestazione all'inizio del campionato ma oggi 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 abbiamo dimostrato che comunque noi siamo quella squadra fisicamente più 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 forte che certamente loro sì perché era una partita così una una squadra molto fisica come Verona contro noi e alla fine siamo stati più più bravi in qualche elemento è stato tra i più costanti soprattutto il primo set si è andato 15 volte ad attaccare chiamato in causa spesso volentieri la Giannelli volevo chiederti se sei soddisfatto della tua prestazione sì sì c'è il primo set era importantissimo lì secondo me lì la partita è fatta era fatta lì sì onestamente non mi ricordo la fine del primo set però probabilmente abbiamo invece mi ricordo una volta nel secondo set dove hai ricevuto e hai attaccato quante volte ti è successo dopo che sei diventato opposto no no o ce l'hai o non ce l'hai oggi ce l'avevo senti quanto da gusto vincere davanti a questo pubblico bellissimo bellissimo cioè giocare a casa con un pubblico così bellissimo come ho sempre detto è come giocare con un settimo giocatore